Il rituale scambio di auguri natalizi come occasione per il nuovo prefetto di Salerno da poco insediatosi sullo scranno più alto del governo provinciale per fare il punto sulla situazione delle tante emergenze aperte nel territorio, cui gli uffici preposti e da lui coordinati così come le forze dell'ordine provano a dare risposta quotidiana. Dalla sicurezza all'ordine pubblico passando attraverso le vertenze lavorative per finire alle emergenze ambientali sta per chiudersi un anno assai complicato ma quello che oramai è alle porte non sembra poi tanto migliore. Di certo non mancano al prefetto russo l'entusiasmo e la determinazione ad accompagnarle anche l'incredibile attrazione verso un territorio ricco di problemi ma anche di straordinarie bellezze e opportunità. Sicuramente venire in un nuovo posto, cominciare a conoscere questo posto, una città così importante, una provincia così importante come Salerno, evidentemente per me è pieno di stimoli per cui io lo vedo molto positivamente dal mio punto di vista. Mi pongo il problema di capire evidentemente insieme alla Stam, insieme a tutte le istituzioni quali sono i problemi della città e della provincia, lo stiamo facendo, chiaramente io sto ancora studiando per capire bene tutti i fenomeni, ho già fatto insieme ai miei collaboratori vari passaggi, abbiamo affrontato alcune questioni, mi piace dire soprattutto che ho conosciuto buona parte dei sindaci di questa provincia, in sostanza li ho conosciuti tutti ma li ho voluti vedere in comitato per l'ordine sicurezza pubblica anche quelli della parte diciamo meridionale della provincia, quindi tanti dei comuni piccoli, con i quali abbiamo guardato insieme anche le problematiche che sono diciamo nei comuni piccoli. Sono problematiche in parte diverse, in parte analoge perché c'è sempre come dire la percezione di sicurezza che è un problema sempre all'ordine del giorno, c'è nello stesso tempo apprezzamento per l'opera delle forze di polizia e questo è uno degli aspetti diciamo migliori che io nel bilancio di questa prima parte, di questo fine anno metto ed è un qualcosa che mi rassicura perché è la base importante per fare, per lavorare meglio anche per il futuro nella nostra provincia e per cui c'è un impegno a 360 gradi, sicurezza stradale, sicurezza evidentemente in generale sicurezza, interdittiva antimafia, affrontiamo un po' con le questioni da tutti i punti di vista, è chiaro, cerchiamo di fare il massimo e il massimo si può raggiungere, questa è una consapevolezza piena acquisita in questi mesi, con la collaborazione costante tra le istituzioni, trovando un linguaggio comune e sviluppandolo insieme, in questo modo chiaramente si possono dare risposte ai migliori cittadini.